Il Presidente per replicare alla Consigliera Celli, noi abbiamo già dato questo indirizzo nel nuovo regolamento sulla gestione di rifiuti urbani, già dato in Commissione Ambiente, perciò l'indirizzo che chiaramente riguarda questa mozione, ma insomma riguarda un po' il nostro pensiero che è quello di aumentare il numero di agenti accertatori per arrivare anche a 200, insomma un numero chiaramente adeguato per poter contrastare questo tipo di fenomeno. Perciò l'indirizzo che è già stato dato anche in Commissione, ci stiamo chiaramente lavorando per, come dire, quando poi arriverà il regolamento sulla gestione di rifiuti urbani in aula, diciamo questo indirizzo verrà implementato all'interno dello stesso regolamento. Grazie Presidente e insomma ricordo che chiaramente il voto sarà favorevole a questa mozione.